Buongiorno, benvenuti alla partita numero cento novantuno di You Leader. Buongiorno, benvenuti alla Buongiorno, benvenuti alla Buongiorno, benvenuti alla Buongiorno, benvenuti alla Buongiorno a tutti, buongiorno, ben trovati Oggi è lunedì, di nuovo lunedì Buon lunedì a tutti, benvenuti alla puntata numero cento novantuno di You Leader Sul volume Buongiorno, buongiorno a tutti Ben trovati, benvenuti, grazie, grazie, grazie di essere qui e di aver scelto anche oggi la community di You Leader per iniziare questa giornata con il giusto mindset per costruire il tuo impero, per creare tutte le circostanze che ti serviranno per far parte di quel due per cento che ce la fa. La mia personalissima piattaforma dice che il dito più rapido del giorno è stato quello di Paola Pucci. La quale è in diretta da Roma. Buongiorno Paola, number one quest'oggi, seguita da Natascia da Torino. Buongiorno, buongiorno Federica da Crispiano. Buongiorno, Alessia Tempesta, buongiorno. Buongiorno, Maira, buongiorno a te, Sara Trolese da Venezia, Antonietta da Fiume Freddo Bruzio, good morning. Corina, buongiorno, ho mandato momentaneamente a riposo la tua splendida tazzina per mostrare per la durata della settimana una tazzina al giorno. Oggi è lunedì. Buongiorno amici di Julide. Ti prego, salvatemi. Somebody help me. Buongiorno Vanda, buongiorno Giulia Filotto, live da Arzignano. Ecco Paola che tagga le sue persone. Yolanda, Yolanda? E Yolanda l'ho letto prima, non so perché. Simona, buongiorno a te. Buongiorno Giulia da Porcia. Rebecca, buongiorno da Merano. Clavio, good morning, live da Napoli. Patrizia da Miss Angeles. Ecco Paola che tagga. Francesca, taggate le vostre persone, le persone del vostro cerchio perché oggi più che mai si parla di rapporti. Oggi parleremo proprio di relazioni. Ottimo Andrea, buongiorno a te. Che bello averti qui in questo orario, in questo giorno. Live da Taranto, buongiornissimo per Carmela, Paola che continua a taggare. Ester, buongiorno. Buongiorno Marica, da Arzignano, Corina. Ecco, ecco. Buongiorno Anna, da Villa Franca, Giulia Savone, live da Valmontone. Good morning, live da Messagne per Valentina. Elena Giordani da Montebello Vicentino. Diana, live da Sarno, catapultata nella Siberia. Siamo tutti più o meno a dieci, undici gradi. Buongiorno live da Capalbio, dalla Toscana per Luana. Ilaria, live da Taranto. Buongiorno, ottima Calabrese Stefania. Buongiorno, Mary. Live da Cornedo, buongiorno a te. Good morning, vanda che tagga le sue persone. Francesca, buongiorno Piovoso da Roma. Francesca è la mia vicina di casa e che si trova però nella capitale in questo periodo. Buongiorno in compagnia di Giorgia, che ti saluta. Live da Venezia. Ciao Roberta, buongiorno a te. Poi parleremo anche di cosa ti è accaduto nel weekend. Io non riesco a scrivere, dice Corina. Conci, buongiorno da Lucera. Ana Maria da Piovene. Claudia Renna, buongiorno. Buongiorno live da Squinsano con le nuvolette. Miranda, good morning dalla Sicilia. Simona, nuovamente buongiorno live con temperatura polare. Ci piace, i cuoricini di Paola. Anna, live da Mesagne. Alfredo, live da Taranto. E l'aria è stata più rapida. Ma oggi, ragazzi, ci sarà uno speech imperdibile di Alfredo, così come lui stesso ha annunciato, solleticando la nostra fantasia e curiosità. Ciao Natascia. Buongiorno Mary dalla Spagna. Giovanna De Santis da Milano. Giada, good morning. Welcome. Angelica, live da Treviso. Anna Lucia, ciao da Lecce. Ermelinda da Caltanissetta. Natascia Selaride. Simona, buongiorno dalla Sicilia. Simona Ramagnani, good morning. Live from Villanova dal Bengali Muria di Ponente. Vanusa, ciao. Eleonora da Castellana Grotte. Yolanda, buongiorno. Ecco dove ho letto Yolanda. Raffa da Modena, sempre in movimento. Joe, you leader da Paola, quindi dalla Calabria. Ecco Vanda che tagga il suo ottimo, simpaticissimo e splendente Giuseppe Cagliolo. Vanessa, buongiorno da Catania. Simona, good morning. Mary che tagga le persone del suo cerchio. Tiziana, buongiorno. Conci. Mari, Lena. Alessandra Laforgia, live da Biceglie. Oggi finalmente parliamo a carte scoperte il libro di Alessandra Laforgia che vi consiglierò durante la puntata e tutti i proventi, tutti gli incassi saranno devoluti in beneficenza per la nostra causa, you leader for Kenya. Ne parleremo. Grazie Alessandra, vi fornirò il link per dotarvi di questo bellissimo, spettacolare libro. Buongiorno da Torino, Bassuma Iannuta, Ioanna da Cassa di Daniela Pisano. Che fantastica cosa. Fatevi le foto e testimoniate le nostre storie. Sabrina, ciao. Angela, good morning da Morfetta. Rudy, ciao. Buongiorno. Rossella, Maria Savino da Opera. Rita, buongiorno. Livia, buongiorno a te da Roma. Paola Vedruccio con i fiorellini. Tamara, Barbara, Maria, Lola, buongiorno, Natascia. Dopo la Genesa adesso acquisterò il libro di Alessandra e agenda 2022 del Team Tempesta. Benvenuti. Puntata 191. Tra pochi istanti entriamo nel vivo e oggi parliamo di cose che vi scalderanno il cuore. Tra pochi istanti. Grazie a tutti. Puntata 192. Puntata 1931. xeba il magnifica community di You Leader siamo tutti quanti reduci da una maratona You Leader che è stata pazzesca strepitosa intensa profonda vibrante emozionante è sicuramente vincente chi c'era sabato durante le nostre tre ore live ci siete stati? Scrivetelo nei commenti che cosa avete provato durante la nostra magnifica alternanza di di storie di emozioni abbiamo parlato di tutto e di più abbiamo parlato della genesa abbiamo lanciato l'idea di utilizzarla come simbolo di questa community oltre al nostro bellissimo logo che sono è un intreccio di una freccia che va su una freccia che va giù a simboleggiare il supporto reciproco chi c'era sabato? Io 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 emozione grinta si emozione dice Mary presente sabato la maratona delle emozioni è stata emozioni pure io io è stato bellissimo emozionante è stato magnifico dice Claudia che ne è stata eh protagonista Anna presente emozioni come sempre Paola io dice Patrizia chi poteva perdersela dice l'ottimo Andrea presente la mia genesa arriva dice Flavio presente meraviglioso acquistata la ragazza è gentilissima assolutamente io io dice Valentino è stato bellissimo dice Giulia che è stata intervistata ad Alessia bellissima giornata io io Alfredo dice io bellissimo magico tante emozioni la genesa è simbolo di leader sì io dice Federica energia positiva non finire emozioni indescrivibili emozioni straordinarie rimaniamo sulla falsa riga di questo oggi il titolo è il tema della puntata di oggi è questo le vibrazioni che non sono soltanto un una band un complesso che io ho amato amo amo moltissimo le vibrazioni oggi parleremo e ribadiremo ancora una volta che il network marketing questo fantastico pianeta che ci ospita è un pianeta fatto di relazioni è un pianeta eh fatto di rapporti è un pianeta fatto di interscambi è un pianeta fatto di vibrazioni parleremo di questo e faremo una cosa molto particolare oggi lanceremo un secchio di colore immaginate un bel secchio con dentro della vernice scegliete voi il colore su qualcosa di invisibile perché quando si parla di vibrazioni e vengono fuori subito i i i realisti vengono fuori sempre quelli di San Tommaso che credono solo a ciò che toccano sai quelli che si innamorano dei soldi e che amano solo ciò che toccano e che possono comprare con i soldi ma c'è qualcosa che i soldi non acquisteranno mai ed è la capacità di cogliere le vibrazioni che ti danno le persone ma anche la capacità di vibrare per andare a incontrare altre anime con cui prendersi sotto braccio e fare questo percorso che si chiama crescita personale alias network marketing perché lanceremo un secchio di colore su questo invisibile perché dovremmo ricordarci che il concreto tutto quello che poi tu tocchi materialmente o che che vedi con gli occhi di quella tua faccia il concreto dipende sempre dall'invisibile il concreto è sempre frutto di qualcosa di invisibile provate a pensare a un'idea a un'idea geniale a un oggetto che viene creato che parte sempre da un pensiero quindi un oggetto concreto in ceramica in legno in vetro in marmo in carta ciò che vuoi nasce sempre da un qualcosa di invisibile tu vedi un qualcosa che frutto di qualcosa di invisibile questo giusto per smantellare sin da subito l'idea che ciò che sentiamo ciò che vibriamo non siano cazzate o cose campate in aria ma è alla base di ciò che è concreto persino i figli i vostri figli a meno che non li abbiate fatti così per per sistemarvi o per dare una felicità a una famiglia tradizionale ma i figli nascono da un qualcosa di invisibile che è per esempio l'amore e allora tu vieni magari a dire che non esistono le vibrazioni vieni a dire che non esiste l'amplificazione delle delle energie delle frequenze magari attraverso un'antenna come questa però poi sai che i figli nascono dall'amore i figli li tocchi li vedi li cresci li pulisci il culo sono concreti ma nascono da qualcosa di invisibile che intercorre fra esseri umani che è l'amore quindi anche qui stiamo confutando questa tesi così come il denaro il denaro il volgare denaro che tanto accende la mente che tanto devia la la vita delle persone che tanto trasforma le persone imbruttendole persino il denaro nasce da qualcosa di invisibile che è il focus almeno nella nostra attività più sei infuocato più sei focalizzato più riuscirai a produrre denaro ecco perché molte persone non ce la fanno perché pensano che il denaro che è una cosa materiale possa avvenire soltanto facendo qualcosa di altrettanto materiale che ne so sudando magari spaccandosi la schiena e magari l'energia intellettuale che ci vuole nel network marketing la crescita personale questa invisibilità di cui siamo circondati è quella che produce serenità finanziaria nel nostro lavoro ecco di questo prima di andare avanti vorrei parlarvi oggi parlare proprio di vibrazioni e di quanto è importante leggo un attimo i vostri i vostri commenti c'è ancora la coda lunga eh della maratona che avete visto buongiorno io mi ero persa solo mezz'ora per lavoro ma ho recuperato indifferita emozioni forti mi hanno scombussolate in senso buono acquistata la Genesa eh dunque buongiorno Giada non sono ancora libera di poter fare ciò che voglio ci saranno altre maratone io potrò decidere di esserci Alessandra io a Genesa oggi uvrigio la vado a ritirare in loco Biliana è della mia città inaspettatamente è più attrazione di questa più leggi di attrazione buongiorno 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 allora quanto è vero dice Maria relativamente al discorso delle eh vibrazioni buongiorno Fulvio Elisabetta perché lo rende visibile al tuo credo al tuo agire al tuo sogno verissimo verissimo una bella maratona le ore volate insieme questa analogia con il concepimento fa vibrare l'anima io io ci credo alle vibrazioni dice Vittoria e alla proprietà anche delle pietre dei cristalli credo formamente anche a ciò che voglio con tutta me stessa assolutamente l'astratto si concretizza in ciò che desideri ci ricorda Emanue Rita Natascia io non vedo l'ora che mi arrivi la Genesa dunque fatta questa eh questa premessa questa attività è fatta di relazioni il network marketing ti consente di vincere se sei un essere umano aperto agli altri esseri umani e i rapporti fra persone di qualunque livello essi siano di qualunque entità di qualunque trasporto nascono da vibrazioni nascono da sensazioni nascono da una chimica invisibile che intercorre anche a distanza non è necessario sedersi a prendere un caffè insieme non è necessario fare una vacanza insieme per capire se c'è un'affinità con una persona in questa professione il consiglio uno dei consigli madre è coltivate i rapporti perché non c'è un business senza rapporti non può esserci risultato numerico non può esserci statistica statistica dalla vostra parte non può esserci guadagno non può esserci soddisfazione di fare questa cavalcata verso la libertà senza costruire rapporti e come dice il buon Paolo Meucci i rapporti devono essere sotto di te sopra di te accanto a te devi costruire rapporti con la tua downline con gli upline con la sideline visto che molti piace usare il linguaggio tecnico potrete essere tecnici potrete essere laureati potrete essere San Tommaso quanto volete ma se non date spazio alle vibrazioni che vi aprono a creare rapporti non ci sarà business e così come non c'è business senza rapporti possono però esserci rapporti senza vibrazioni ora vi chiedo chi ha un po' più di esperienza in questo in questo business in questa industria ma mi siete accorti quante false empatie esistono pur di avere un follower in più avete mai messo a fuoco perché quel comportamento di quella persona non ti fa vibrare correttamente quando scorgi quello sporco che non ti fa vedere ti mette un velo davanti alla considerazione che tu hai di un individuo quante false empatie notate ogni giorno pur di avere un follower in più quante finte vibrazioni quante quante socializzazioni quante finte società quante ingannevoli vicinanze fra persone soltanto per avere un follower in più soltanto per costruire un'ondata di negatività contro qualcosa contro qualcuno quante false empatie vedi pur di avere un follower in più pur di avere il consenso di qualcuno sai quando le persone scoprono come sei se non sei una persona in grado di ispirare gli altri quando la gente scopre come sei potrebbe partire un meccanismo molto particolare andare verso il basso verso chi è ancora sterile dal punto di vista del riconoscere le emozioni potreste andare a cercare consensi se ti conoscono e si allontanano che cosa fanno le persone creano finte simpatie finte empatie pur di avere un follower in più pur di avere un consenso in più ma siccome col consenso non si pagano le bollette siccome con il consenso non si è sicuramente sulla strada dell'ispirazione degli altri tutto parte dalle vibrazioni perché i rapporti senza vibrazioni non permettono di costruire un business perché non dovremmo dimenticarlo mai mai questo business dice la verità il network marketing che è una industria in cui tu funzioni soltanto se ami il genere umano se ami te stesso se sei aperto al miglioramento e sei in grado di mettere in discussione persino te stesso potresti farcela perché questo business dice la verità quanti finti legami vedi attorno a te quanti io vado a dare un'occhiata nei commenti vero dice elisabetta preferisco non avere un follower in più se non sento quella vibrazione giusta la falsità non la sopporto verissimo dice natascia raffa è vero tutto vero l'empatia si sente e chi non mi ha risposto è successo perché fa network un'altra azienda oppure non lo so simpatica sente la finta empatia stefania buongiorno buongiorno a te alla nostra straordinaria ottima up line stefania giaccardi quando arrivi tu esattamente come il sole che vedo nel nel commento ciao grazie per essere qui per essere di costante ispirazione per noi e per tutti quelli per cui sei inarrivabile ma in realtà umanamente ci stiamo lavorando per diventare luana preferisco non avere un follower in più se non sento quelle vibrazioni giuste la falsità non la sopporto ho la fortuna di sentire le persone con le quali parlo ogni giorno dice giulia ne vedo tantissime mi dispiace perché vivere il network nella maniera scorretta non porterà queste persone ad essere felici esattamente questo eh Andrea esistono finte empatie e simpatie senza vibrazioni ma come mi insegni tu tutti i modi i tutti i nodi prima o poi vengono al pettine questo business dice la verità non può fingere per sempre Anna ma si sente quando una persona è mossa solo dal denaro sono relazioni destinate a finire miseramente spesso neanche bene quando manca ciò che lega il fatturato non è la base di un rapporto sano qui e nella vita ma aggiungerei il fatturato non è alla base neanche di questa attività perché quello è una conseguenza di un atteggiamento di amore verso il genere umano perché soltanto così puoi funzionare in un mondo fatto di persone troppi vittorio io non ho mai amato la falsità e il double face solo nei giubbotti Alessandra tutto vero io sono molto empatica e percepisco tutto subito subito tutto Natascia buongiorno Stefania grande ispirazione Alessia buongiorno da Aberdeen dalla Scozia Fulvio il follow to follow non crea valore ma solo numeri non in target che fanno veramente eh che non fanno veramente crescere ecco i saluti alla nostra Stefania Giaccardi Vittorio inoltre la chiarezza la verità sono l'unica le armi lecite in tutti i rapporti ecco Raffaella che tagga la sua Sara il nostro lavoro infatti non è legato ai followers ai mi piace ma ai rapporti Stefania sei sempre straordinario Mario buongiorno a te io studio e imparo dai migliori al contrario quando faccio azioni chat con entusiasmo eh vera gioia lo sento sento vibrazione da parte di chi realmente è in in empatia ciao Stefania se a pelle non provo nulla non voglio avere a che fare con quella persona non è sincera buongiorno marida che tagga Angie dunque questo business dice la verità quante amicizie di circostanza riesci a contare attorno a te facci caso quante amicizie di circostanza riesci a contare che per carità non c'è nulla di male la giornata la vita deve passare e ognuno decide come con chi ognuno decide se fare passi avanti passi indietro sondare ridare un'opportunità ad una persona non è di questo che parliamo ma parliamo di quanto in realtà è magnifico quando ci sono le vibrazioni quelle vere nessuno 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 crede più che si possa leggere una persona nessuno coltiva la convinzione che che si possa capire all'istante cosa una persona può darti e cosa può scambiare con te certo poi la vita l'esperienza la la maniera empirica di rapportarsi con con la vita ti dà un valore aggiunto io continuo a dirlo lo dico e lo ridico fino fino alla alla nausea aver lavorato per più di 16 anni in un ambiente di di donne di ragazze questa magnifica esperienza che il network marketing mi ha insegnato a leggere nell'universo più sensibile che esista nell'universo più instabile ma nell'universo più solido che esista quello delle delle donne ho sviluppato una particolare sensibilità a leggere le vibrazioni a sentire e anche ahimè a capire istantaneamente quando si finge di essere una persona in pace con se stessa di questo si tratta e rivolto ai san tommaso credi alle vibrazioni e smettila di fare lo spocchioso realista smettila di convincerti che amerai solo la persona che ti fattura smettila di volere bene solo alle tue gambe deboli no no io devo assolutamente stringere rapporti e io voglio molto bene la mia pay line dicono smettila di fare lo spocchioso fottuto a rivista e smettila di costruire relazioni che sono basate soltanto sul consenso comincia a credere le vibrazioni e smettila di fare lo spocchioso realista perché si può entrare in sintonia amare stringersi lavorare desiderare il successo di persone che non ti faranno guadagnare neanche mezzo pound perché questo che non accade nella nostra attività è tutto commisurato al concreto io me la faccio solo con quelli della mia pay line io me la faccio solo con quelli che io do valore soltanto a quelli che mi fatturano mi fatturano passiamo dalla serie le mie ragazze alla serie mi dovete fare mi dovete generare punti mi dovete questa è la ricerca di finte relazioni che matematicamente portano alla caduta di un sogno volete far parte del 2 per cento che ce la fa cominciate a credere per davvero alle vibrazioni e io vi lancio una sfida oggi vi lancio una specie di prima di di passare la palla ad alfredo piglieco vi lancio un'idea oggi se siete stati frenati non l'avete mai fatto scrivete a qualcuno a cui magari non avete mai scritto con cui avete avuto che ne so un rapporto epistolare di lavoro scrivete a qualcuno di cui percepite le vibrazioni e non fate che sia necessariamente legato al vostro team se percepite le vibrazioni se sentite di volervi ispirare a qualcuno se sentite l'ascendente di qualcuno verso di voi se ne percepite le vibrazioni scriveteli e nutritevi nutritevi di quello che vi può tornare in cambio è questo che rende le anime povere l'arrivismo per l'amore dei soldi che ti rende non desideroso di coltivare le vibrazioni e quando cominci ad amare il denaro che vai a braccetto con i demoni che ti porteranno a terra quando invece il denaro è una cosa che tu desideri avere come conseguenza di miglioramento personale sarai tre volte quattro volte mille volte più felice oggi vi lancio questa sfida vi va scrivete a qualcuno di cui percepite le vibrazioni a costo di sembrare arrivanti dal nulla ciao non mi conosci ma devo dirti che mi ispiri devo dirti che in te riconosco qualcosa che mi fa vibrare voglio conoscerti di più voglio capire cosa puoi darmi e cosa posso darti perché questo che potrebbe rendere il nostro team la nostra community di you leader ma per proprietà transitiva questa industria migliore migliore ed è questo quello che vi fa vincere nel network marketing questa è una di quelle cose di cui si parla anche nel libro di alessandra questo che apparentemente è un passaggio pubblicitario per un libro scritto con uno stile e con una estetica volutamente leggibile e rilegibile questo che stiamo dicendo è alla base delle skill vincenti per intraprendere questo business del lavoro giusto di cui parla alessandra e dicevo se sto facendo questo passaggio non è soltanto per promozione di un libro che dovrebbe essere sui vostri comodini così come la divina commedia come il gopro di eric warry ma anche perché alessandra durante la maritona di sabato ha detto che i proventi dell'acquisto di questo libro evidentemente da da sabato in poi andranno alla nostra iniziativa you leader for kenia la quale sta per vivere sta per vivere la conclusione della sua raccolta perché vi darò delle notizie straordinarie ma siccome fermarsi a fare fare di meno non ci appartiene alessandra ha lanciato questa questa iniziativa tutti i proventi dell'acquisto del suo libro che vi renderà ricchi andranno alla nostra iniziativa you leader for kenia io voglio adesso mettere nei commenti vi metto il link per arrivare direttamente ad amazon per l'acquisto del libro di di alessandra forse l'avevo già messo eccolo qui ho messo nei commenti questo link che ora metterò in evidenza eccolo qui è un bit li facile facile bit punto li con la y e poi libera col network marketing ok libera con il network marketing non so se è apparso il link nei commenti perché mi ha dato un piccolo errore comunque lo metterò nei nostri gruppi di lavoro quello di cui parliamo l'empatia le relazioni l'amore per il per gli essere umano dal successo nel business al successo personale storie di successo contatti di non apparire la versione migliore di te stesso ma diventa la migliore versione di te stesso questo ed altre perle nel libro di alessandra vi ricordo i proventi saranno per la solidarietà ci sono un po di commenti che non voglio leggere per non attardarmi perché non vedo l'ora di ascoltare e alfredo piliego libro meraviglioso sono ilaria alfredo si c'è lo acquisterò alessandra funziona il link grazie mille a ecco ed ecco il cuoricino di alessandra devo ispirarlo mi ispira devo acquistarlo mi ispira tanto dice natascia fate attenzione alle vibrazioni la sfida di oggi vi lancio vi prego di documentarla raccontatela nei post raccontatela nelle storie scrivete a qualcuno di cui percepite le vibrazioni e nutritevi dallo scambio dall'interscambio che ne deriva tra pochi istanti torniamo con lo speech di alfredo piliego buongiorno amici di uLeader ben trovati allora quest'oggi come vedete sono all'aperto mi sono preso questo spazio all'aperto per fare una piccola riflessione innanzitutto vi volevo ringraziare per tutte le emozioni che ci avete dato durante la maratona uLeader perché è stato veramente incredibile sia per noi che abbiamo parlato ma leggervi ascoltare altre storie insomma è stato veramente veramente molto emozionante e vi auguro di vivere le stesse sensazioni ma veniamo alla frase di oggi ve la faccio leggere e poi ne parliamo allora arriviamo insieme a questa frase vi dico subito che questa frase nasce dalla canzone giudizio universale di Samuele Bersani ditemi che quando avete iniziato questa attività non siete stati soggetti a delle critiche inevitabilmente gente che lo fa per sport chi ve lo fa per una questione costruttiva perché poi da quella critica avete imparato qualcosa o semplicemente lo fa per darvi un un'opinione ecco sappiate che questo accade nel corso dell'attività quindi sempre anche dopo nel corso della nostra attività e accade sempre anche nel corso della vita quindi inevitabile che il network sia tranquillamente paragonabile alla vita quotidiana ecco io molto semplicemente prima magari mi potevo anche soffermare sulle critiche e pensarci un po' di più però da quando abbiamo maturato la consapevolezza di star facendo la cosa giusta ecco allora non ci resta che rispondere lasciami sognare lasciami sognare in pace e consiglio di farlo anche voi infine volevo chiudere dicendovi una una perla che è un dottore a noi molto molto caro ha condiviso l'altro giorno proprio su un suo profilo social e che io a mia volta ho condiviso in alcuni gruppi whatsapp nei quali sono all'interno lui diceva testualmente quando c'è qualcuno che vi critica per una scelta fatta o per semplicemente aver preso una strada rispondetegli semplicemente lo faccio per far felice me e non per deludere te ecco questo credo che sia il sunto migliore di tutto quello che io abbia detto fin ad ora vi auguro una splendida giornata amici di U-Leader grazie Alfredo lo faccio per far felice me non per deludere te bellissimo utilizzatelo come come risposta garbata senza dimenticare mai che la gentilezza è come la neve rende bello tutto ciò che ricopre grazie mille ad Alfredo le critiche ci scivolano dice la tua Ilaria a testa alta sempre sicuri della scelta fatta due anni fa sognare ci sta facendo volare per davvero e voi con il vostro team state volando per davvero grande amico dice Alessia grazie Alfredo togliere la ragione dice Marida ci sto riuscendo ogni giorno eh di più grazie ciao Alfredo grazie Mario che sia Alessia grazie Alfredo grazie al team tempesta bellissima questa frase grande Alfredo dice Valentina Alfredo che parole grazie Alfredo sempre meravigliosi i tuoi interventi Anna grazie Alfredo bellissimo spunto grazie Alfredo dice Alessandra grazie esatto Marida il nuovo mantra lo sto facendo per me non per deludere te grazie Alfredo sognare ci fa vivere felici conci grazie Alfredo bellissime parole grazie Alfredo io vi invito a seguire tenere d'occhio i profili social di Alfredo perché eh giorno dopo giorno quando ci sono i suoi interventi ci lancerà una sorta di anticipo di quello che andrà a dire potremmo metterci nel il giusto mood sempre bello ascoltarti Alfredo dice eh Vanusa grazie grazie a voi per essere arrivati fino in fondo anche oggi a questa eh straordinaria puntata eh cosa voglio dirvi in più che il prossimo evento di una certa portata che che vivrà il leader sarà nel mese di novembre allorché un tale giorno che presumo sarà un sabato ci sarà talk on stage il talk on stage è un altro delle pietre miliari di you leader ed è una specie di mini GoPro di you leader eh abbiamo già fatto due o tre edizioni del talk on stage ne faremo un'altra a novembre e si tratta semplicemente di alcuni di voi che terranno degli speech terranno dei discorsi che saranno votati dal pubblico e saranno votati presumo da una giuria di esperti anche durante il talk on stage le emozioni sono di casa e soprattutto anche con il talk on stage you leader va a estrinsecare la sua vera natura che è quella di dare valore agli altri fate questa dazione di valore verso gli altri perché vi renderà più ricchi sotto tutti i punti di vista condividete la live di oggi condividetela eh ovviamente utilizzando il nostro hashtag condividete questa live è facile c'è un pulsantino qui dove c'è scritto condividi scrivi un breve testo proprio per sintetizzare ciò che senti dopo aver visto questa live e metti l'hashtag you leader perché giorno dopo giorno mi consentirà magari lo faremo domani di andare a vedere i vostri post con questo hashtag aiutarvi a essere di ispirazione per gli altri chiudiamo ricordandovi quello a cui vi ho invitato scrivete a qualcuno di cui percepite le vibrazioni e nutritevi di ciò che di buono vi può arrivare e di ciò che di buono potete dare che siano vibrazioni pulite che siano vibrazioni destinate a prendervi per mano per braccio e aiutarvi a crescere e a superare i momenti no che sono tipici di questa professione perché è una professione fatta parallelamente alla tua vita è fatta con altri essere esseri umani grazie a tutti se la maratona è stata emozionante non avete idea di quanto lo sia il talk on stage dice alfredo che ne conosce bene l'emozione grazie a tutti grazie per esserci stati anche oggi l'appuntamento è domani alle 8 e 45 grazie a tutti musica trasformate questa giornata in un capolavoro non ringraziate me ringraziate voi stessi e scrivete a qualcuno di cui percepite le vibrazioni e nutritemi e non fatevi venire nessuna minchiolanza grazie a tutti appuntamento domani alle 8 e 45 ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti